Qui vi presentiamo le 5 migliori mannaie da cucina. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Imarco coltello da macellaio in acciaio inox da 7 pollici. L'accordo è realizzato in legno opaca, che non è solo apprezzato per il suo alto grado di conforte e sicurezza, ma è anche antibatterico. La lama è completamente realizzata in acciaio inossidabile 7 cr, resistente alla corrosione e semplice da mantenere basta pulirla con acqua e sapone neutro. Insieme al taglio, lo strumento rivela una varietà di osi, come il taglio, l'affettatura, il dicing non solo della carne, tuttavia anche le verdure. Grazie al foro nel bordo superiore può essere appeso a un gancio della zona cucina, costantemente pronto per l'uso. Passando al numero 4. W con di resist of V4680-16, mannaia. È uno strumento molto pratico, che integra un peso ben bilanciato 460 grammi con una densità della lama ben calibrata di 3,5 ml. Realizzato con un oggetto solitario di acciaio cromo molibdeno vanadio e una lama lunga 16 cm, resistente e anche rigida. La gestione nera è realizzata in materiale artificiale speciale. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Arcos serie 2900, mannaietta mannaia da cucina coltello scannare coltello macellaio. Progettato per professionisti che necessitano di una comodità ottimale per un uso prolungato, è costruito in un acciaio inossidabile unico nel suo genere con alta efficienza e anche longevità nitrum. La gestione ergonomica, confortevole e sicura, consente di svolgere attività con un metodo naturale. Viene generato in polipropilene infuso PIPI, un materiale plastico sanitario con grande resistenza agli urti, antiscivolo e anche inalterabile a calore 120-130C. Almostat è top of our list at number 2. Fierifo in X serie mannaia professionale. È una mannaia creata con precisione, ultra affilata e resistente all'usura. La lama è caratterizzata da un alto contenuto di rete in carbonio ed è realizzata in acciaio dalla tedesca Thyssen-Tropp al numero 55 di Roquelle. Il bordo è sviluppato a mano, con cura eccezionale, a 18 perlato. L'accedura del legno pacca resistente, proveniente dalla Spagna, assicura resistenza e raffinatezza ottimali. La sua forma ergonomica utilizza praticità, presa e maneggevole. E infine il numero 1 della nostra lista. Ausonia, mannaia da macellaio manico con CM26. Realizzato in acciaio inossidabile di primo ordine, ha una dimensione di 26 cm. È dotato di una lama spessa 5,3 mm. La sua lunga cura ergonomica, realizzata in materiale plastico, è apprezzata per la sua estrema manovrabilità ed è inoltre estremamente priva di rischi. Vi consente di mantenere le dita ben lontane dalla lama di taglio. Il peso della mannaia è di 1,9 kg. Maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.